salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video io sono salvo pimpos e oggi siamo su crazy wheels in pratica diciamo una rivisitazione di happy wheels su android quindi play e livello ma chi è ma ci avrai 8 mila anni c'hai stai in una biciclettina con questo si salta con questo avanti e indietro ok vai che è slob piano piano slob piano il casco il casco che ti stupì ti fai male ok saltiamo qua con questo salta che è checkpoint le mine le mine non le prendere che è stucato tranquillo tranquillo la testa ti ricrescerà credo l'hai visto ti è ricresciuto ma dai ma ma come cazzo cammini è antigravitazionale sto gioco vai salta 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 e aggrizzati via salto salto mine mine che devo farmi fermo e dirmelo prima no wait ok aspetta ma da mi crollano le cose addosso ma poi che una bici salterina via 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 finisce finisce ok ok you win livello 2 questo è su work out free c'è una modifica scudo un po' di potenziamenti work out free le cose gratis se ci piacciono ad hoc ascensore wait fermati che devo fare ok via veloci in sala sotto che c'è spunto a schiena schiena sia posto 18 la schiena ti ha colpito non te lo vorrei dire ma ti ha colpito via salta gli spuntoni wait wait aspettiamo a chi ha scelto che succede pure non solo mi infilzano gli spuntoni pure la dinamina la mina bellissimo salta eh da vado stiamoci qua tanto tu sei comodo sopra la bicicletta sei comodissimo wait 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 ma che cazzo come ce l'hai sto braccio rotto si è rotto il braccio si colpisita i calci da solo si dà ma che cos'è un bambolotto si stocchiamoci braccia e gambe tanto wait si è rotto tu oh aspetta ma che cos'è un una marionette no tutto stoccava dai tutto stoccato dai ciccio ah hai visto però adesso non è stoccato quindi proprio si rompono gambe e braccia come se tutto fosse normale ok non sbatterla eh già si è rotto il braccio non ci credo ma chi ha sfiorato non è che non è che si potrà rompere il braccio vai zio zio accelera zio accelera wait fermati zio vai adesso zio vai adesso zio freccia freccia via finish ma sembra più facile però di happy wheels sembra ora vedremo i livelli successivi via via non ti non ti stocca minchia pure le seghe circolari pure le seghe circolari cura qua via via beh oh zaro com'è fatta a romperti tutto non è colpa mia se se la bicicletta non è ammortizzata ciccio non ti puoi fracassare le ossa solo per atterrare eh e che la bicicletta la si è presa no no aspetta fammi aspetta vabbè ecco il legito via 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 mi fai proseguire che dici vai si da ti calci da solo per punizione che non sai guidare vai motosega accorare le motoseghe che è ho visto no mi minchia questo è colpo di culo che non avevo visto nessuna delle due cose finisce finisce via a livello 4 ancora le mine non te le minare non c'è bisogno di andarla a mettere a 30 metri di profondità bastava anche dieci centimetri morivo lo stesso via di mine ehm via oh ma perchè meglio così meglio morire sopra che sotto ma poi infilzato fantastico acqua al pettine è qua che qua mi frega ogni bo dai via adesso via il cappello oggi da guarda che punto ma si di schiena così il dolore minore questo questo livello è basta è forte quando ero infilza tipo da un mento dai che cazzo fa è anticravitazionale sto gioco c'è salta a conto non lo so come ho saltato vediamo di ripetiamo c'è salta al contrario comunque perso lo stesso via dai ma che ci siamo bloccati a quarto livello dai non facciamo non facciamo i cornutini come morire con dignità infilzati da un pettine girevole a o evito il pettino salto che dobbiamo farlo c'è poco fino al slot piano piano c'è una bella motosee sega 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 come fa a saltare la testa cadendo ma boh no non lo so un nuovo gioco lancio e infilzati anzi salta e infilzati salta e infilzati salta e infilzati però se eviti l'infilzatura magari magari finiamo salta salta che qui c'è tutta c'è siamo sulla luna qua tutto antigravitazionale via via eh vabbè restiamo qua il braccio ti serviva si ora non ti serve più tranquillo qua saltano gli arti pure avanti ciccio zio zio ciccio siamo così che faccio andiamo avanti ti speech perchè mi scordo che sto coso cammina perchè via via adesso via adesso che ce la faccia vai vai piano salta però così ma baffanculo no no ma perchè ma si salta saltiamo con la ruota davanti saltiamo con saltiamo con la ruota con la ruota indietro non salti baffanculo culo salta adesso non mi freghi più piatta forma stupida e girevolo ma questo non è un checkpoint come che appena muoio va salta eh vabbè come a terra non c'è un modo per girare e bilanciare la caduta come faccio eh non mi frega salta adesso tranquillo che ce la fai ok ok piano ok io piano ci vado non è che ci vado forte solo che il pinnolone cade a testa in giù che è è morto con una ruota come faccia a me cammina con una ruota cammina se vabbè che è un monociclo la bici mi è diventato un monociclo via come il vento via come il vento via vabbè ma ma che cos'è non solo il monociclo mi scoppia pure il mondo mi scoppia via 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 io piano ci vado non è che c'è un accordo devo saltare piano perchè ti giri è il monociclo il monociclo di nuovo forse è così che deve andare a sto gioco cadere dalla senza fracassare il mondo è impossibile via via però non atterrare vabbè perché mi atterra nella mina stop e infatti da qua non si può passare quindi per forza di là devo andare scendi piano piano così così bellissimo ce l'ho fatta si ma non ti affetterà le gambe però ciccio a cura che ho scoperto non ti infizzare via via bellissimo non mi colpire che minchia non mi fotti un bastardo un altro c'è nella eh monica che dobbiamo fare ciccio nooo le mine le mine siete bastardi via via ma quant'è bastardo sto livello che è vedo cosa qua no non mi infizzare non mi a cura a cara via 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 bene ragazzi se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace ho fatto anche nella pagina facebook negli atti social di cui trovate il link descrizione e iscrivetevi al canale e per oggi è tutto al prossimo video no chi è no pure i cani no chi è questo non vedo niente grazie a tutti